Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Rozza, bentornati sul canale. Oggi ragazzi, nuovo video tema Pokémon, molto molto importante, perché ragazzi, oggi mi sono recato a Zibido San Giacomo, vicino nel sud di Milano, quindi anche vicino a dove abito io, per andare in questo negozio, il Digital Gate, e prendere un prodotto che in questo momento è tornato super disponibile per le carte Pokémon. E qual è questo prodotto se non il mitico chest di Gran Festa. E ragazzi, fidatevi che è un prodotto che merita. Io ne ho acquistato oggi uno, perché quello che avevo preso in precedenza lo terrò sealed. Ma questo ragazzi ve lo apro e vediamo assieme quello che va a contenere. Vi ricordo ragazzi di seguirmi sui miei social, vi lascio Instagram, c'è il solito canale Telegram nelle descrizioni, e continua ragazzi la Road to 500, per cui se non siete iscritti, e ce ne sono tanti che vedono il video senza iscriversi, iscrivetevi qua al canale a destra, se volete anche attivate la campanellina per essere aggiornati su tutti i video. Ora ragazzi, noi entriamo con la sigla e poi vediamo che cosa contiene questa mitica chest. Eccoci ragazzi qua con la cam. Tolgo la cam per sole perché questo prodotto merita di essere visualizzato in tutta la sua interezza. Per cui ragazzi, prima di aprirlo, due parole sul Digital Gate. Ragazzi, negozio situato a Zibido San Giacomo, per cui vi lascio ovviamente sia il link del sito che sui social del Digital Gate, per cui magari adesso vi faccio anche passare in sovipressione un po' di anteprima del sito. Andateci se siete di passaggio, se abitate in zona perché, a mio modo di vedere, oltretutto, a parte la simpatia e la disponibilità sui social, quando gli ho scritto mi ha risposto praticamente subito. Oggi ci siamo incontrati perché sono passato lì per recuperare questo super prodotto e, oltretutto, ragazzi, i prezzi sono prezzi alla portata. Non sono i prezzi gonfiati che poi voi potete acquistare online. Per cui, ragazzi, se vi capita, passateci. Ovviamente fa anche spedizioni, quindi potete anche comprarlo online. E quindi questo ci tenevo a dirlo perché è anche giusto rendere merito quando ci sono queste tipologie di negozi che fanno questo tipo di servizio. Per cui, ragazzi, andiamo a vedere, nella sua interezza, questa super, super, super chest. Ovviamente, gran festa, ragazzi, è uscito, come vi ricordate, il set, quello che è tornato con l'esplosione incredibile, fine 2021, con tutte le carte. Ovviamente, ragazzi, che cosa si spera di trovare magari oggi? I famosi Charizard, il famoso Charizard, Blastoise o Venusaur, che praticamente ci portano e che ci mancano, chiaramente, in collezione. Ma andiamo a vedere, appunto, il contenuto, prima di tutto. Allora, vediamo, questo qua, chiaramente, è un sacco di tesori Pokémon. Ci sono tre carte con Mimikyu Delta, Lighttricity e I Dragon Sea. Sei boost, quattro di gran festa e due, ovviamente, delle aggiuntive del GCC Pokémon. E tanto altro ancora, quindi, tante sorprese, perché questa è una bella cesta, anche bella da tenere, tra virgolette, anche se l'aprite, ragazzi, comunque potete conservarci le cose. Ovviamente, questa la apro, perché ci godiamo il contenuto. Guardate, comunque, la bellezza di questa cesta, dove si vedono, ovviamente, Train On, il classico di Gran Festa. Ma questo è il contenuto posteriore, cioè, laterale, scusate, dove, appunto, qua ci dà tutto il suo contenuto. Quindi le sei booste, quattro di Gran Festa, due di aggiuntive, le tre promozionali, la moneta, quattro fogli adesivi, un mini raccoglitore per le carte, un bloc note su un foglio informativo, una carta per il codice online, che lascia, ovviamente, per voi da riscattare. Per cui, ragazzi, il primo che riscatta tanta roba. Ragazzi, vediamoci, ho prima di aprire il contenuto. Il classico logo di Pikachu con il 25. Qua, sullo sfondo, bellissimi, tutti i vari starter delle varie generazioni. Quindi, fantastico, ovviamente, ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti qual è il vostro starter preferito. E se, ovviamente, ve lo siete perso, vi lascio indietro, comunque nelle schede, video sull'aperto dei box di Gran Festa che ho fatto sul canale. Adesso è venuto il momento di aprire questa meraviglia. E, ragazzi, godiamoci il suo contenuto. Allora, qua abbiamo, adesso le vediamo, quelle che sono tutti i prodotti. Qua troviamo monete. Qua, ovviamente, ragazzi, troviamo espansioni con Fragore Ribelle. Due, quello con i Mitical Toxtristi di Artwork. Ovviamente, ragazzi, magari queste qui non le apriamo, perché una entra in collezione, perché poi le metto nelle collezioni di Siled, ovviamente. Oppure potrò decidere, magari, di fare il video di One Shot. Vi ricordo la serie sul canale, dove apro un pacchetto per vedere cosa si trova. e qua, eccoci qua, quelli di Gran Festa, che sono quelle quattro che apriremo. Oggi, cinque, addirittura, cinque e sei. No, allora, ho letto male, probabilmente. Incredibile, ci sono sei bustine di Gran Festa. Quindi, ragazzi, tanta roba. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Ed ecco, ragazzi, il codice che riscatta il più veloce di voi. Per cui, via il codice. Vente, alta plastica. Dopo, liberiamo di tutto il contenuto. Qua vediamo, come vedete, ancora un altro contenitore con plastica. Non è molto plastic free, ma lo sapevamo. Qua c'è il libretto aggiuntivo, dove, tra l'altro, parla di quelle che sono le carte speciali, chiaramente, con i Pokémon Lite, specie Delta, e, ovviamente, gli SP, quindi, i Dragon C, quindi il Platino. E andiamo, ovviamente, poi a parlare un attimino, anche in questo video, di quelle che sono. Perché sapete, ragazzi, che io vi voglio anche raccontare delle cose sul GCC. E... E quindi, ad esempio, parliamo anche perché sulle varie situazioni. E facciamo un po' un excursus, anche. Vi ricordo che farà, partirà a breve, la serie, appunto, su il set base, dove vi racconto, vi faccio della mia collezione, che non è completa, ti ricordo, ma che comunque vi voglio parlare di quello che ho collezionato, anche un po' di chicche sugli artwork, e cose così, insomma. Andiamo a vedere con calma tutti i vari prodotti. Allora, sicuramente, qua c'è un bel block notice, devo dire che sarà interessante avere come tipologia di prodotto, bellino, molto carino. E qua abbiamo visto i nostri adesivi. Qua ci sono tante quelle di Pikachu, qua ovviamente faccia di Pikachu e train on, quindi anche qua, ragazzi, non male. Vi ricordo, ragazzi, di seguirmi sui social Instagram, seguitemi sulla pagina e ovviamente mandatemi quelle che sono vostre opinioni, oppure iscritte al gruppo Telegram, dove ci sono le cose. Io scambio qualsiasi cosa di livello collezionistico. Qua, ragazzi, questo è il mitico mini raccoglitore un po' tipico delle varie edizioni. Ne hanno fatti i tipi. C'è anche la collezione lì. Magari poi facciamo un video dedicato alla collezione di Gran Festa, anche se riesco a completarla. Adesso, prima di spacchettare, per cui io metto da parte questi due, come vi ho detto, andiamo a vederci gli ultimi prodotti. Allora, qua, ragazzi, la super moneta con quello Pikachu, un po' un classico. E adesso prendo anche le mie Perfect Size perché potrebbe essere il momento, e quindi scusate rumore, ma stavo recuperando i Perfect Size, potrebbe essere il momento di andare ad analizzare e slivare le carte. Allora, facciamo con calma, andiamo fondamentalmente in ordine tra virgolette di sviluppo. Allora, partiamo da questa carta qua, che adesso io prendo le sleeve, ce la slivo dentro perché poi va dentro la collezione di Gran Festa. Ed eccolo qua, partiamo con Light Toctricity. È una carta Light Toctricity, promo di Spada e Scudo 137, ragazzi, con l'Arthur covenente di Kimura, l'illustrazione, vedete, bello il cosmo. Che particolarità va a riprendere? In Gran Festa riprende fondamentalmente il tipo Light che uscì nelle carte con il Neo Destiny che era un pochettino la ripresa fondamentalmente delle carte quelle lì del Dark che erano uscite con il set del Team Rocket quelle carte erano fantastiche ragazzi e non vedo l'ora di portare un video apposta dedicato nel set Neo Destiny quindi con la seconda generazione mi introdussero le Light che erano le carte di Pokémon 3 rette buoni questo ovviamente Toctricity della generazione di Spada e Scudo è la novità assoluta per cui non male come carta e ce lo mettiamo qua momentaneamente vediamo il secondo il secondo tipo allora eccolo qua le specie Delta in questo caso abbiamo Super Mimikyu specie Delta Mimikyu che è definito comunque come Pokémon spettro barra elettro qua è ideato come Pokémon d'acqua le specie Delta erano le carte uscite con i ex specie Delta dove praticamente veniva assegnato una diversa tipologia di di elemento quindi di tipo al Pokémon Mimikyu in questo caso Pokémon d'acqua mai visto è stato un elemento interessante nella mia collezione ho diverse specie Delta tra l'altro ragazzi se non sapete cosa collezionare è molto interessante secondo me una tipologia di collezione di carte specie Delta anche perché alcune comunque costano poco a buon mercato andiamo a vedere l'ultimo super super promozionale di oggi e ci vediamo con un iDragon C queste carte le SP come vedete sono le carte fondamentalmente dedicate agli allenatori quindi sono state introdotte anche per una specie di richiamo tra virgolette questo qua ovviamente su platino su quelle che erano le carte del gym io ho sempre detto che mi piacciono molto le carte con degli allenatori e quindi questo è stato un pochettino sulla carta SP quindi la ripresa con la tipologia del Pokémon poi ci sono stati alcuni set dove presenta ad esempio il Team Galassia Cyrus eccetera quindi in questo caso è la ripresa sui Dragon per cui ragazzi queste qui erano le tre promozionali ma adesso ovviamente arriva la parte importante del video apriamo le bustine di Gran Festa allora ragazzi ormai ragazzi è dal 2021 che non apro più Gran Festa quindi chiaramente vabbè al di là del fatto che ho praticamente quasi tutto il set base credo che fosse solo una carta allora qua intanto vi beccate il codice boh vabbè giriamo così e vediamo un attimino allora troviamo ricerca accademica rara ah no forse è vero ragazzi la rara era già in fondo no ragazzi incredibile incredibile blast toys blast toys ragazzi è un destino incredibile è vero la rara era in fondo ma nella terza c'era quella di quella che poteva essere la carta di set speciale quindi troviamo super blast toys nel del set base clamoroso ragazzi ovviamente gran festa quindi un valore incredibile troviamo blast toys o blast toys set base o blast toys anche del set gran festa per cui ragazzi solo per questo ragazzi like e andate a digital gate per per comprare la cs perché ne ha ancora 5 per cui ragazzi ci siamo fantastico ragazzi adesso per me il video potrebbe anche concludersi così però giustamente lo dobbiamo fare fino in fondo per cui vediamo un pochettino allora io no la metto di qua perché effettivamente è una rara non voglio spoilerarmela subito vediamo cosa troviamo troviamo l'Ughia ovviamente ragazzi adesso ho aperto anche card market dove ho aperto l'account dove vendo carte quindi sicuramente inserirò queste di gran festa se qualcuno invece vuole scambiare mi iscrive chiaramente su instagram per cui cosmo attenzione trovo pikachu v surf v max quindi incredibile pull tra l'altro però credo che questo qua ce l'avessi già v surf v max devo riprendere e l'ultimo è un palchia quindi ragazzi colpi incredibili speriamo di non aver già giocato tutte le cartucce adesso per cui sliviamo anche il pikachu surf v max e andiamo a aprirci il terzo pacchettino ovviamente ragazzi sarebbe incredibile se trovassi dentro charizard venusaur ancora perché sarebbe qualcosa di di clamoroso ma non penso però vediamo antiappe apri il pacchetto chiaramente ragazzi il codice è sempre per voi quindi veloce riscattarlo vediamo cosa troviamo troviamo allora ragazzi partiamo con graudon poi ci abbiamo cosmo troviamo anche pikachu v-surf mi sembra che mi mancasse quello volo a me e poi troviamo claydoll quindi ragazzi c'è questo pacchetto straordinario incredibile troviamo claydoll che era una delle carte che erano più giocate ai tempi con cosmo forza era molto famosa perché appunto utilizzava questo effetto qua che prima del tuo attacco puoi scegliere due carte e metterli in fondo al mazzo se preferisci se lo fai pesca fino a 6 carte per avere in mano e quindi fondamentalmente era un effetto che dava molto per cui la ripesa del set alternativo era questo aspetto qua troviamo anche pikachu v-surf che credo appunto mi sembra che a me mancasse proprio la carta di pikachu invece di pikachu surf di pikachu volo scusate per cui comunque ragazzi bello perché ci troviamo v-surf e v-surf max quindi non male ma ragazzi tanta roba sto pack opening cioè andateci solo per questo andateci al limite cioè full incredibile e me l'ha dato a caso e ragazzi non è che è combinato eccetera quindi è un video che si sta diventando epico potrebbe diventare anche peggio attenzione intanto troviamo palchia oh oh troviamo zamazenta v che questo ce l'ho chiaramente doppio e poi exerneas ovviamente qua ragazzi comunque era un pool bello arto di questo set anche perché le ultime carte sono sempre interessanti vediamo gli ultimi due pacchetti ma già aver trovato il blastoise fantastico dal punto di vista collezionistico vediamoci qua questo pack opening e state com'è fino alla fine perché ragazzi vediamo cosmo palchia l'ennesimo di oggi troviamo un altro incredibilmente doppio pikachu surf v max e troviamo reshiram quindi ragazzi due v surf v max incredibile mi stanno pienendo il perfect size per cui vediamo se trovi qualcosa pool incredibile con due doppie assurde era da tanto che non si idea qualcosa del genere vediamo l'ultimo pacchetto comunque un pool sempre molto interessante vediamo questo qua scusate il codice è stato troppo veloce vediamo qua ruvido quindi è trovato qualcosa vediamo i veltal kaiogre troviamo il volo v max incredibile e l'ultima un di aiga per cui ragazzi troviamo praticamente di tutto però non trovo quella v normale peccato mi manca quella doveva recuperare però gran pool di pikachu soprattutto sono contento di non aver trovato il pikachu ciccione quello lì del remake che hanno fatto del set base in versione full art ma soprattutto ragazzi bomba incredibile nel primo pacchetto troviamo il destino che trovi blastoise che è stato il primo dei tre delle tre evoluzioni che ho avuto nel set per cui ragazzi in questo momento a me non resta uno che intanto per ricordare di distribuire il canale vi lascio tutto sotto nelle descrizioni tutti i riferimenti di digital gate andateci se passate da zibido ma andate anche sul sito a vedere se potete acquistare online perché i prezzi sono davvero a buon mercato non sono gonfiati per cui ragazzi per questo video è tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao